Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il futuro di Tore del Greco, continua la mobilitazione in città, sabato in programma un'altra iniziativa. Faremo un altro flash mob, diciamo che partiamo da San Antonio, però sarà un flash mob mobile, abbiamo una distanza di circa 5 metri ogni persona che ha dei cartelloni, lo dovevamo fare venerdì domani, ma per causa meteo perché domani piove, è stato spostato il giorno dopo, sabato 6 giugno. Abbiamo tantissime associazioni che parteciperanno a questo momento, questo flash mob fermi ognuno a 5 metri, dove là passeranno televisione, video, che vedranno tutte queste persone, cerchiamo di arrivare meno a Santa Teresa o ad Ercolano, con tutte queste persone che noi abbiamo domani, per far capire sempre la difficoltà che ci sta oggi sul territorio. Parteciperanno anche gli attori, quelli là del teatro, ci sono la voce dei commercianti, ci saranno moltissime persone che vogliono partecipare a questo momento veramente critico di questo Covid-19 che ha distrutto il mondo intero. Vi parlo solo della nostra categoria, i marittimi italiani, i cosiddetti fantasmi, dal primo gennaio. A 31 dicembre non avranno un reddito perché qua non imbarcherà nessuno. Oggi la gravità che ci sta, MSC, costo crociere che c'è la bandiera italiana, ma MSC c'è la bandiera Panamense, ma Carnival, tutte le società, nave di crociere, vengono in unità, devono imbarcare, marittime, italiane, comunità, perché ancora oggi è inaccettabile, è vergognoso che un governo che ha la bellezza di 30.000 o 40.000 posti che potrebbero far lavorare domani mattino, non lo fa, non si sa perché. La parte sociale che ci dovrebbero difendere, ci dovrebbero difendere, ma non pensano altro a firmare un accordo intero che per prendersi le 290 euro a questa comunità. Questo è un appello all'ennesimo flash mob che faremo, proprio per dare la visibilità a queste società da crociere, perché qua tutte le società nel capo d'accesso stanno in difficoltà, ma devono cominciare a imbarcare marittime italiane, le navi da crociere, che vengono in Italia a lavorare. Quale motivo? Che vanno in Grecia ci devono essere il 70%. Quale motivo? Che vanno in Turi ci devono essere il 70%. Quale motivo? Che vanno in Brasile, le navi da crociere, devono essere il 70% brasiliani, ma in America è la stessa cosa, o vengono in Italia, ci sono preoccupati, baccate tutte queste comunità, qua ce ne freghiamo di tutto. E questo è il nostro grido d'appello per l'ennesima volta e ci siamo anche preparando per andare a fare una grande manifestazione a Roma, mettere armatori, assarmatori, confidanti e ministri dei trasporti. Metterci insieme, ma dare veramente una luce di speranza a tantissimi giorni. Giovanni Colardo, portavoce dei lavoratori stagionali, anche voi parteciperete al Flash Mob organizzato dall'Associazione Marittimi per il Futuro in programma sabato a Torre del Greco. Il governo si dovrà far carico della situazione, perché adesso anche tutti come l'emergenza Covid, le stagioni sono incominciate e niente, non abbiamo reddito. E lo Stato si dovrà far carico del nuovo reddito. Almeno fino all'aprile 2021 si dovrà cambiare la sigla della disoccupazione da Anaspi ad Aspi. I miei due appelli è uno al governo e l'altro lo faccio anche agli imprenditori. Oggi dobbiamo usare un po' tutti quanti l'etica morale, che in questo momento l'etica morale qualcuno se l'ha dimenticata. Ci sono alcuni imprenditori che non rispondono al telefono. Primo. Secondo è che dobbiamo usare un po' di etica morale, che questi ragazzi che dovevano incominciare non hanno un reddito. E che facciamo? Lì rimaniamo a casa senza un reddito. Io denuncerò personalmente con altri enti, denuncerò a tutti quelli là che faranno abuso di noi. Noi fino a ieri siamo stati un capitale umano e voi dovete investire come avete investito sulla vostra struttura, voi dovete investire anche sul nostro operato. Noi siamo un capitale umano e in questo momento non si possono dimenticare di noi. Gennaro Cantore, figlio di commerciante ma anche marittimo. Come vivi questa situazione critica con l'emergenza Covid? Il lavoro del marittimo già precario è diventato ancora più difficile. Sì, è una situazione molto complicata, ma diciamoci la verità, questa non è una situazione nuova. Questa è solo una conseguenza. Il Covid alla fine ha steso solo una situazione che già era in ginocchio. qui tutti fino a 15 giorni fa si lamentavano, volevano fare delle evoluzioni nell'emergenza stessa, volevano scendere. Però devo constatare una cosa, che al momento si sta riprendendo l'economia come era e tutti si stanno riarrangiando e stanno tornando a quello di prima. Allora tutte queste persone che fino a poco fa volevano fare c'è cosa, dove state? Perché non vi mettete insieme a noi? Io sono un figlio di commerciante e so le difficoltà che ha un commerciante per portare avanti la propria attività. Sono un marittimo, so il marittimo quando soffre, quando se ne va di casa e sta tre, quattro mesi lontano da casa. Purtroppo la mia categoria, che è un lavoro sacrificato, ma veramente sacrificato, è una categoria che è una conseguenza di un degrado sociale, di una terra misera, che è stata una conseguenza da anni di politica corrotta. Scendete in piazza con noi, manifestiamo, se vogliamo cambiare le cose ci dobbiamo mettere in gioco noi stessi. Voglio fare riferimento a una grande persona come Giovanni Falcone, che combattiva la mafia, disse che le cose vanno così non significa che devono andare sempre così. Però le persone quando devono fare qualcosa abbassano la testa e continuano ad andare come le cose andavano prima. Quindi quello che voglio dire è scendete in campo con noi, cerchiamo di cambiare qualcosa. Se voi dite non cambieremo niente, ma proviamoci almeno. Perché è un nostro diritto cercare di dare una dignità a questa terra.